sasso, qua c'è il temporale ci ammassano tutti eh, vai Roma eh dai Roma un corno sarei anche Romano comunque è arrivata la suotta e ci ha suottato la porta no? ci ha sequestrato casa, non l'hai visto? quando? prima guarda dai ti faccio vedere ci ha suottato casa quindi ti resta lì adesso ti farò vedere come ci hanno sequestrato casa fortuna che abbiamo la Lightning Rogue oh, Lightning sì, la Lightning Rob Rob perché la Lightning Rob? Rob che cazzo è? ci hanno suottato a casa ah dai oh no ah non funziona non so come uscire a porta non funziona aspetta aspetta guarda faccio vedere eh se proprio tu qua sta dai ieri qua c'è va che guardi? robe? no dai non sei le bravi non hai visto un cazzo di film? eh? non guardi film mi sento feso dormiamo bello che tu non hai un letto devi andare fuori all'aria fredda no questo lo dici tu sasso secondo me era un problema di ieri la connessione perché vedi che stasera non si lagga boh il tuo server non ha un ping posso confermare he's not a ping in server ma io posso tipo mettere OBS manca solo il voto di Alessandro Borghese che potrebbe ribaltare o confermare o confermare o confermare la che va a sirvi perché? dormi? un attimo sto facendo il supporto per armatura è finito? no ma perché dobbiamo dormire? è tanto bello sentire i tuoi vabbè dai dormiamo oh no dormi con la musica perché? allora nello scorso episodio abbiamo completato la farm giusto sasso? è ora di testare il farm no aspettami lo devo tirare io no io tiro levo no aspetta allora sasso 3 2 1 au cazzo oh ma ce la fai oh che bello funziona c'hai le macro bastardo funziona a cazzo appunto poi manca l'hopper sotto al cestino vabbè no c'è il patato sai perché andrebbe rialzata di un altro po' no io non la rialzo vabbè la rialzo io tanto te non mangi perfetto quante stacca ha prodotto a me ha tre stacca ma anche cinque cosa vogliamo allora perché ho due spade non lo so ma vogliamo fare che ci fai dentro che ci fai dentro te non puoi vedere vai fuori ho detto vogliamo fare un build che build non lo so vai fuori dai rialzata di un lingotto di ferro ma perché te ne ho regalati 50 ieri ma non è vero ma ce l'ho tutti i miei ti ho fatto le pale no ho fatto troppo ah che poi non serviva quel lingotto che ti ho ciulato ma non è vero vabbè posso fare la stessa roba ti ciulo l'armatura però tanto non mi serviva ehi brutto stronzo dammi il mio lingotto non c'è ah mio lingotto rubo diamante no tacito this is not a lingot voglio vedere cosa rimetti pre pre mie perché ma dove te ne si è infilati i diamanti c'è tipo il diamante celato meme che non puoi capire no rubo il ciucco porca putta comunque l'ho venuto qua per fare delle leve ti elevi a potenza ma addio ma neanche dei blocchi di coso ah vabbè si poi poi devo rimettere devo rifar funzionare il cestino quello rifarò funzionare c'è anche la reta stu coso si ma che ti tieni tutto il ferro per te il treno posso dirsi una cosa va fai il culo ma ahhh non puoi più entrare adesso no sapevi la password ah ah io ho rubato password il ciucco me l'ha detto il ciucco adesso come usciamo non lo so ma che cazzo vai su aspetta aspetta no è uscito qualcuno ascita aia ma che cosa è non so no ma perché dirgli a grifare brutto lion ah no lui adesso insulta lion vgf lion vgf lent oro ciucco vai daieroma lui non si chiama ciucco lui si chiama daieroma ah è il daieromatore si adesso ho capito ho anche capito che mi sono dimenticato di musica no vabbè better minecraft così oh è perfetto è bellissimo si dai ma non è un gioco ma scusa non hai altro da fare perché il gioco inizia a pingare alto adesso i don't know ma questa non serve gli dammi il leva devo fare un sistema che mi permette di sapere se quando vado via ti sei entrato o meno ma non è difficile basta fare un comparatore di redstone a somma non è complicatissimo bro tipo io lascio il comparatore a 3 e se te la se te apri quella botola il comparatore mi andrà a 4 per dire no vabbè posso riavere la leva te la piazzate in casa grazie vabbè io faccio un po' di mie cose rosse te dice in che senso rosso pietra dai ma devi stare in casa ah non ci devi stare era solo un frank toc toc che cazzo è toc toc non esiste ma che si devo rompere casa per entrare sì il principio è quello non entrare no dai è come se io adesso è come se io adesso mi metto a fare chiudo fuori ma dovresti fare un meccanismo che si apre anche dall'esterno basta ecco così siamo pari adesso posso essere lasciato in pace sì no non puoi spararne un'altra tu ne hai sparata una fame bastardo quindi tirerò una dopo ma una tira adesso no tiro dopo hai un proiettile che ho ficcato nella cosa devo trovare una shader leggera che non mi faccia troppo frame drop ehi ma io avevo un anvil ho portata insieme a da perché no e vabbè dai ma te la rifai cazzo non usi mai un pezzo di ferro adesso magicamente ma vabbè dai ma non condividi un cazzo ma come a me ho fatto tutta la farm tutti i blocchi ma non è vero li ho raccolti tutti i blocchi no sì no no ma se tu che non sprechi mai uno di ferro ne hai sprecati due magicamente ieri perché volevi finire sennò non li sprecavi ma non è vero ho usato già mezzo staff per fare sweeping gage l'armor al terror di un altro armor oggi a me quindi uno stack è andato via ma per te no per me chi cazzo ti vuole a te ah la farm knockback 2 che merda trovare un enchant carino qui è impossibile sharpness allora cambiamo enchant ah io ti dico solo una cosa da qualche parte da qualche parte farò 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 un passaggio segreto perché mmm per farci il mio magazzino così basta mmm magazzino ciò da guardare in un video su come si fanno il comparatore accumulativi dai dove sono andati a finire tutti i vabbè perché mi devi toccare la cesta è la mia cesta ancora una volta ti smonto il rifugio toccare il rifugio oh merda ho due rail adesso avevo voglia di tirartela eh rilami le rail a parte che sono mia no io avevo io buco in chest eeeh vabbè cosi no c'è no ma tu hai rotto tutto ora meglio ah ecco dove è la mia armatura in ferro vado a vedere se riesco a fare un enchant ma se il chestino lo smonto boh c'è divo dentro un botto di roba eh ma allora vabbè dai vado ritorno in miniera a cercare un po' di ferro no vabbè no troppo no però o doni due o doni cinque di ferro o lo lascialo smontato lascialo smontato ma guarda che ti mi hai già robato abbastanza ferro faccio un breaking oppure switch enchant switch ce l'ho già un breaking poi magari ti esce merda con un breaking eh un altro un breaking un breaking point andiamo di nuovo ecco che è esploso tutto era spec 2 però doveva arrivare questo server non lagga ma te ti avvicini ma non è anche te avvicini ero tipo in cina e il creeper esplode lo stesso perché rimane triggerato e boh userò uno stack di terra aia un tempo in una vanilla con un mio amico tipo c'era una zona che era bombardata dai creeper e il mio amico ha sfruttato l'occasione per farci un deposito segreto nei buchi dei creeper che non ritappava completamente quindi beh si servirebbe che sponasse un ragno uno eh non due tre quattro no veramente uno infatti poi ne sponano due dov'è l'uranio belen 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 mi servirebbe un accumulato devo allora sto pensando se fare una porta che si apre con un pin però sarebbe troppo evidente è sponato uno spider jokey ma non c'è il cumulatore il cumulatore di resta è roba simile dai tentiamo a vedere se ciao